e passo subito la parola a Satoko Kishimoto che ha svolto in questi anni una preziosa anche per noi ricerca rispetto ai processi di rimunicipalizzazione dell'acqua e non solo dei servizi pubblici locali e quindi il suo intervento credo che sia molto importante per chiarire il contesto dentro il quale si sivono anche proprio le esperienze di cui parliamo e abbiamo parlato in questo dibattito Grazie Satoko per la disponibilità Now I would like to give the floor to Satoko Kishimoto a very important figure again for the rimunicipalization not just of water and since she has this international view on this topic I think we can give a specific context to our experiences today So Satoko Kishimoto please Hi Good evening everybody Thank you so much for this very very rich space and a conversation and a congratulation of the 10 years anniversary of one of the most impressive social movement, the Italian water movement and to win the water referendum 10 years This opportunity reminded me so well like to see you know the friends from Italian water movement, the Parisian Berlin, Nepal, the Thessaloniki and many places especially I'm so glad to see the Motachima, the Rodrigo from the Motachima in Chile So thanks for this opportunity to remind us we are so all connected in the water movement I'm so proud you know this unity It's nice to have this opportunity It's nice to know that there are so many movements in Italy in Italy in favor of the water It's nice to meet you with the representatives of Berlin, Paris, and Napoli It's nice to know that there is also Mondaka to represent Mondatima e vorrei quindi ringraziarvi per questa opportunità di nuovo che secondo me unisce ancora di più le nostre reti, i nostri movimenti Just very briefly, let me have five minutes to share with you the indeed global de-privatization movement which really I still strongly believe what the reminicipalization movement is pioneering and keep inspiring other other movement in the beyond the water Quindi vorrei dedicare i prossimi cinque minuti a un racconto di un'esperienza di de-privatizzazione che può essere di ispirazione, che sicuramente ha fatto da apripista, può essere una apripista per altri Simone, maybe just show this image, please Possiamo mostrare le immagini intanto Well, I think Ann and Dorothea and other people really reminded us the importance of the public ownership doesn't really mean necessarily, you know, the democratic organization as such, rather it's constant challenge to really claim and exercise the participation and the democratic management of water E' stato spiegato ancora una volta che la ripubblicizzazione dell'acqua è un intervento di democratizzazione e che è una sfida costante questa Well, this database, many, many organizations have worked together to put our knowledge together This database, today we have counted 1,482 successful deprivatization or reminicipalization cases Of course, including water, but also the other seven very important essential services Abbiamo visto che ci sono stati tanti importanti casi di ripubblicizzazione e qui vi presento una database e i casi di ripubblicizzazione oppure di deprivatizzazione sono stati 1,482 La maggior parte di questi riguardano l'acqua ma non solo Next one, please La prossima slide Well, I just want to say a few words, this one example of reminicipalization, of course Ann knows much more than me Well, this public ownership of water is not only important of water as commons but other public objectives, the public water ownership navigates other public objectives by making partnership, this case, with farmers in the water catchment area Alcune, vi vorrei adesso parlare brevemente di un esempio di ripubblicizzazione Sicuramente sapete più di me di questo tema In ogni caso credo che quello che vi presenterò è un esempio importante anche per altri obiettivi che sono stati condivisi, obiettivi comuni all'interno della strategia di approvvigionamento e di distribuzione pubblica dell'acqua This case, the more sustainable agricultural product of the region is providing scooby mills in the water catchment area which of course contribute to children's healthy food but also foster the more sustainable agriculture and local economy in the region Questo esempio tratta di un incentivo che è stato dato agli agricoltori, alle aziende agricole che si trovano nelle aree di bacini idrografici e questo consente non solo di garantire alimenti sani ai bambini che mangiano nelle mense ma anche a sviluppare l'economia locale e ad avere anche una crescita e un'agricoltura sostenibile. La prossima diapositiva per favore. So, this image shows you there are many diverse potential benefits of public ownership, for example, water or other areas. You can look at the, for instance, this in the middle, improved democratic control and the public ownership and better working conditions, lower fees for residents, achieving policy goals that benefit people and planet. So, you can see many diverse benefits which public ownership can navigate to achieve together the different public objectives. Quindi, vedete quali e quanti sono i potenziali benefici della ripubblicizzazione dell'acqua. Qui, nella parte centrale della diapositiva, ne vedete alcuni, per esempio, il maggiore controllo democratico e anche una migliore condizione per il lavoro dei lavoratori e tariffe più basse dell'acqua e in generale più vantaggi per il pianeta e per le persone. Maybe the last three biggest benefit, the left side, would be most important, I suppose, the better value for money and the public sector savings, increased the public investment for quality services, and in the end, the increased local capacity for community wealth building. Quindi, nella parte a sinistra, vedete che forse i benefici più importanti sono quelli, per esempio, del risparmio pubblico, della possibilità di investire su servizi di qualità, di avere maggiore efficienza anche dal punto di vista dei costi, fra gli altri. Senz'altro, l'esempio di Eau de Paris ha mostrato molti di questi benefici a tutto il mondo ed è un esempio incoraggiante e di ispirazione. Prossima slide, per favore. Well, the coalition allies, you know, working on the reminicipalization movement, we want to go step further. So that is exploring collective and democratic public ownership of commons. Quindi vogliamo arrivare ancora più in là, vogliamo andare oltre e vedere tutte le potenzialità che la collettività può dare rendendo l'acqua un bene pubblico anche per i fini democratici. Oh, well, sorry, this is my mistake. We changed the title, actually, because commons cannot, there is no ownership of commons, so we have to say exploring the collective and democratic public ownership of public goods and services. Sorry for that. C'è stato un cambiamento nella diapositiva, quindi vedete nel titolo qui c'è scritto la proprietà dei beni comuni. In realtà ci si riferisce a beni e servizi pubblici. Vogliamo esplorare la proprietà pubblica, collettiva e democratica di beni e servizi pubblici. So, this is the report I'm working with now, working on now. Quindi adesso, scusa, sorry. Go ahead. So, quindi sto lavorando su questo al momento. That, actually, this is probably better to say the politics of commons. Quindi possiamo parlare di una politica di beni comuni. Abbiamo esplorato cinque diverse strategie per la proprietà pubblica. For instance, number two, co-governance of public assets. Quindi co-governance dei beni pubblici, appunto due. And three, public civic hybrid association. E poi delle associazioni ibride a livello della società civile e pubblico. Such as the observatory of Paris, the water observatory of Paris. Per esempio, il servizio dato grazie all'osservatorio di Parigi. So, with those two strategies, we learn a lot from water sector. Grazie a queste strategie abbiamo imparato molto del settore idrico. And number four, co-ownership of local infrastructure. Five, innovative financing to scale up public civic innovation. E poi la co-proprietà delle infrastrutture locali. E poi abbiamo imparato molto per quanto riguarda l'alimentazione e il settore agricolo. grazie all'acquisizione di terre e rendendo questi beni non un bene pubblico, un bene commerciale, ma riconsiderandoli un bene pubblico. Thank you very much. I think this public ownership of water is always our inspiration. And this, as I also stated, this is the challenge for people in democracy, just transition and that there are many different objectives like our local economy. Thank you very much. Credo quindi che la proprietà pubblica dell'acqua sia una fonte di un motivo di ispirazione per tutti, per portarci a cambiare la situazione, a migliorare il livello di democrazia, ad aiutare nell'ambito della giustizia sociale e anche per aiutare le economie locali. Grazie a Satoko per il contributo che credo sia veramente importante, perché a volte come movimenti sociali non abbiamo magari la lucidità per evidenziare alcuni caratteri, alcuni processi che avvengono. E le vostre ricerche sicuramente ci aiutano a focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che altrimenti difficilmente riusciremo a individuare. Thank you, Satoko, for your intervention. And thank you, because sometimes we as social movement, we are not lucid enough to focus on certain mechanism and certain intervention while you did a very clear analysis and you gave a great contribution to the discussion. Thank you.